Scandalo dei lavori non lavori al porto canale di Pescara, domani la marineria e tutte le categorie tornano a mobilitarsi, la città si fermerà, il Partito Democratico lancia un nuovo allarme, Pescara rischia di perdere con la chiusura del porto anche il traffico commerciale turistico, Ortona aspetta soltanto la chiusura di questo porto. Gravi affermazioni le sue del vecchio. No, non sono le affermazioni mie, io ho ripreso soltanto un'iniziativa con preoccupazione di alcuni consiglieri comunali della città di Ortona che ieri hanno chiesto direttamente al presidente Chiodi di intervenire per quella farsa e hanno ragione di dragaggio che c'è nella città di Pescara e trasferire le linee commerciali turistiche nel porto di Ortona in quanto più idoneo. Se così fosse è un'altra perla da attribuire all'amministrazione Mascia che per la sua ignavia, per la sua incapacità di assumere decisioni non solo sta portando il porto di Pescara alla paralisi totale, voglio ricordare che già le grandi navi non entrano più nel porto di Pescara, non c'è più lo scambio commerciale, fra poco non ci sarà neanche per i pescherecci e rischiamo di avere la beffa di venire trasferiti i collegamenti turistici a Ortona. L'unico dragaggio che pareva certo, quello del porto turistico con ripascimento della riviera sud è invece fermo al palo anche qui con corollario d'inchiesta. Si potrebbe dire che il sindaco Mascia ogni cosa che tocca diventa un disastro, soprattutto in tema ambientale del mare, dragaggio e alla condizione che c'è. Per quanto riguarda il ripascimento credo che si sia oggi siamo al punto di dire qualcosa di concreto, di certo e di vero. Abbiamo taciuto in tutto questo periodo per non arrecare un ulteriore danno alla categoria, ma leggendo le dichiarazioni dell'assessore del Trecco che dice di sospendere i lavori non possiamo dire che anche lì si è creato una situazione disastrosa per l'incompetenza e incapacità di chi ha gestito quell'opera. Allora non si può fare il pavimento in una stanza partendo dalla porta. Normalmente si parte dalla parete più distante alla porta. E qui invece al ripascimento del litorale sud, invece di partire dalla parte più lontana, quella che poi effettivamente aveva più bisogno, cioè quella a sud di Fosso Vallelunga, si è preferito partire dalla parte più vicina. Peraltro andando contro quelle che erano le indicazioni dell'arta che aveva evidenziato, una presenza con le analisi fatte alla sabbia del porto turistico di coliformi fecali, il che voleva dire soltanto che quelle sabbie dovevano essere esposte al sole per un periodo di una o due settimane per abbatterne la carica batterica. Così non è stato, qualche solerte cittadino molto probabilmente a quel lavoro fatto in un periodo fuori tempo non si può fare un lavoro di quel genere al mese di maggio o giugno, andava fatto con i tempi dovuti. Molto probabilmente ha ritenuto di interessare la procura che, carte alla mano da quello che si dice, insomma non poteva che riscontrare ciò che c'è e che i ciechi della politica del comune di Pescara hanno fatto finta di non vedere.